Spaccio di droga in carcere, blitz nella casa circondariale di Forni a Salerno per mano della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria. 16 le persone arrestate, 9 in carcere, 7 i domiciliari, tra cui figura anche l'agente di Polizia Penitenziaria che lo scorso 21 dicembre venne scoperto dal cane Spike mentre provava a introdurre droga in cella e dopo un rocambolesco inseguimento venne acciuffato insieme alla compagna sua complice. Le accuse per tutti gli arrestati sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e introduzione di telefoni cellulari in carcere ma vengono contestati anche reati come estorsione, vendita di armi, riciclaggio e autoriciclaggio. Complessivamente sono 31 le persone indagate nella maxindagine della procura di Salerno mentre l'operazione è stata condotta in 11 comuni tra cui Angri, Bellizzi, Eboli ma anche Lecce e Forlì. Secondo l'ipotesi accusatoria a capo del presunto gruppo criminale ci sarebbe un detenuto vicino al clan Defeo che tra il 2022 e il 2023 dall'interno del circondariale di Forni gestiva tutte le attività coordinando in particolare le piazze di spaccio di Bellizzi, Monte Corvino Pugliano e Battipaglia. Fiamme Gialle e Polizia hanno documentato l'ingresso di droga in carcere per un valore di circa 50.000 euro. Grazie agli incassi del traffico di droga il gruppo criminale aveva reinvestito parte dei guadagni in un centro estetico a Bellizzi e in un auto di lusso, entrambi finiti sotto sequestro. Il sodalizio, secondo la ricostruzione della procura, aveva una rigida organizzazione. C'era chi aveva il compito di reperire la droga, altri sim cellulari, altri ancora la gestione delle carte prepagate. Dalle indagini sono emersi anche episodi di violenza e la vendita di un'arma modificata con detenuti che facilitavano lo spaccio nel carcere sfruttando la libertà di movimento concessa per lavoro.